Ragazzi buongiorno come va? Un saluto a tutti, buon 28 settembre, ci avviciniamo alla fine di questo mese e ci avviciniamo anche al ritorno in campo del nostro caramato AC Milan, sabato sabato ci avviciniamo e dunque su coi like o meglio giù coi like e iscrivetevi qui se l'avete ancora fatto, mi raccomando, fatelo numerosissimi vi consiglio anche di scaricare gratuitamente la bimoro 10, qui sotto c'è il link di iscrivervi al mio secondo canale in cui parlo di tutto, anche di Milan, ieri o da durante prima su Leao, proprio sul mio canale personale, non sul nostro community, qui sotto c'è il link e partiamo subito, detto che a Milanello ieri abbiamo recuperato Calabria, vediamo oggi chi recupereremo speriamo di recuperare Tonali, ecco oggi il programma prevede, speriamo Tonali su Rebic magari, magari, su Ricky invece sono un po' più pessimista al momento detto che Teo Hernandez sta facendo dei passi, non dico da gigante, ma molto importanti verso il rientro non sarà sicuramente contro l'Empoli, difficile ma non impossibile contro il Chelsea la Juve è sicuramente nel Merino, vediamo oggi se ci sono novità, ovviamente ci vediamo più tardi per tutti gli aggiornamenti come state? Di nuovo buona giornata e andiamo subito su Rafa Leao ragazzi, il tema Rafa Leao sta tutti a cuore perché Rafa è il nostro giocatore più importante è il giocatore che ci ha dato una mano incredibile l'anno scorso a vincere il campionato che ci può dare una mano incredibile anche quest'anno a vincere il campionato e tra l'altro l'avete premiato come community, l'abbiamo premiato come rosso-nero della stagione 2021-2022 ha ricevuto anche il premio che abbiamo consegnato e che potete vedere nel video dell'home page di Milanello allora, novità che arriva dal Portogallo, Portogallo quindi sapete sempre che bisogna fare dei ragionamenti Portogallo significa che la fonte è o il giocatore o l'entourage del giocatore oppure lo Sporting Lisbona perché in questo caso appunto c'è di mezzo anche lo Sporting intanto diciamo che la trattativa è complessa, sapete per questo risarcimento che con l'interesse è arrivato a 19-20 milioni di euro una cifra molto importante per un giocatore che come dico sempre si fa il calciatore, guadagnerà tanti soldi però sono 20 milioni che lui al momento non ha quindi è qualcosa che lo condiziona come ha detto Paolo Maldini l'altro giorno Maldini che ha diversi interlocutori Mendes, cartellino, ingaggio del giocatore, eventuale commissione poi c'è l'avvocato amico del papà che sta curando invece questa vicenda legata allo Sporting e poi c'è stato di mezzo anche lo Sporting stesso diciamo che Maldini l'altro giorno ha detto per i giocatori forti bisogna fare delle eccezioni, bisogna pagarli per quello che valgono quindi il Milan non ritiene che in questo momento sia un problema la richiesta economica di Leao che è intorno ai 7 milioni di euro il Milan ritiene che possa arrivare ad accontentarlo diciamo che rispetto ai 4 milioni e mezzo offerta di mesi e mesi fa si va al rialzo, la sensazione, questa è una cifra che inizia un po' a trapelare che magari ecco il Milan confida che intorno ai 6, 6 e mezzo o meglio chi segue la trattativa da una parte e dall'altra confida, ritiene che l'affare si possa concludere intorno ai 6, 6 milioni e mezzo di euro quindi in Milan quella cifra arriva non è più il grande problema che sembrava poter essere che sarebbe stato con Elliot che non supera i 4 milioni e mezzo quindi qualcosina potremmo essere già avanti tant'è che l'altro giorno Maldini dice buone possibilità di trovare l'accordo con lui, sì con lo sporting no perché non ci riguarda e qui arriviamo e qui arriviamo una cosa va detta Leao sta già pagando lo sporting vengono trattenuti mensilmente una parte dei soldi che lui percepisce e questa va allo sporting quindi lui già sta in maniera ovviamente molto piccola rispetto alla totalità del debito sta pagando debito che tra l'altro è arrivato perché lui si era svincolato consigliato da Mendes è andato a Lille con la lista gratuita in quanto c'era stata un'aggressione nel centro sportivo dello sporting e lui quindi aveva ritenuto che ci fossero i presupposti lui o chi per lui meglio per rescindere non gli è stata data ragione purtroppo lui deve pagare questi soldi allora ieri a Bola che è il top di gamma a livello appunto di giornalismo sportivo in Portogallo ha scritto che tra il Milan e lo sporting c'è una sorta di trattativa ci sono stati due incontri con l'obiettivo del Milan di provare a far abbassare la richiesta dello sporting rispetto a questa cifra di risarcimento che è prevista in 20 milioni debiti compresi il Milan ha provato una volta appunto a instaurare un dialogo c'è stato poi un secondo incontro in cui il Milan ha chiesto di scendere rispetto al valore di 19-20 milioni di euro dal Portogallo quindi credo che sia più ispirazione Sporting Lisbona a Bola scrive che questi incontri però non hanno portato agli effetti sperati perché il presidente Federico Varandas che è colui che avete visto alla destra della copertina prima però di Orge Mendes vuole l'intera somma quindi lui dice no noi sconti non ne facciamo e di fronte al tentativo di diplomazia del Milan ha detto no grazie questo intanto perché è molto significativo e non deve passare così in secondo piano questo innanzitutto ci fa capire come il Milan sia il principale interlocutore di Rafa Leao sul suo futuro perché è il Milan che si sta rivolgendo per Leao allo Sporting non è il Chelsea non è il Manchester City è il Milan che cerca di sistemare il futuro di Rafa Leao dal punto di vista economico facendo il piacere a lui più che al Milan stesso questo ci fa capire che il Milan se fa questo passo si chiede di abbassare la cifra è perché vuole aiutare il giocatore per farlo rimanere qui non per perderlo è perché il giocatore evidentemente ha dato il proprio benestare a rimanere se si vuole cercare di ottenere uno sconto evidentemente è perché il Milan non vuole fare come l'amico dai vado io a parlare con quello ci hai litigato ci penso io vuole dire avrà detto Leao ti do una mano io non solo ad abbassare il prezzo ma anche magari a contribuire a livello economico cerchiamo di abbassare poi magari diamo una parte diamo la metà eccetera eccetera quindi questo è molto significativo e fa diciamo scopa con quanto detto da Paolo Maldini da un punto di vista cioè quando dice lui vuole rimanere abbiamo capito ce l'ha detto ce lo dice eccetera 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 vuole possibilità di rinnovare dall'altra parte Paolo Maldini però dice con lo Sporting noi non ci interessa e in Portogallo questa frase che ovviamente è arrivata anche là è stata presa come un tentativo di mettere pressione allo Sporting perché accetti di abbassare queste richieste anche perché dall'altra parte se lo Sporting rimane così avrà quei soldi in tanti 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 anni dall'altra parte se invece accettano una proposta di Maldini che ne so riscendere a ipotizzo invece di 20-12 a quel punto i 12 potrebbero averli perché no anche la prossima estate quindi questa è la trattativa nella trattativa ed è forse la trattativa più importante rispetto anche all'ingaggio e alle commissioni di Jorge Mendes qui si gioca secondo me il tutto con il Milan che si sta muovendo anche se da queste parti viene un po' smentito ufficialmente per cercare di risolvere questa grana che obiettivamente è molto molto spinosa sul futuro di Rafa Leao ripeto a me questa notizia ha fatto molto piacere perché mi ha dato un'ulteriore conferma del fatto che Milan e Leao stiano lavorando a braccetto per sistemare un futuro insieme quando dice quando ho detto l'altro giorno la cosa con lo sport non è una cosa che ci riguarda ho detto caspita però detta così il giocatore potrebbe anche prenderla male forse bisognerebbe provare ad aiutarlo eccetera eccetera avendo questa ulteriore indiscrezione dico sì allora una dichiarazione strategica per sì mettere pressione allo sporting è legittimo e il fatto però che Milan si stia movendo per risolvere una questione legata al proprio giocatore non è perché questo giocatore la risolvo e poi lo scedo no provo a risolverla la risolvo ma arrivane qui quest'anno l'anno prossimo e magari anche l'anno dopo ancora quindi ragazzi la speranza è che lo sporting con Varanda lascia scendami ti consigli che rinuncia a qualcosa siamo di fronte a una trattativa io aspetto tu dici fai sapere che vediamo chi molla per primo vediamo soprattutto se ci sarà magari un nuovo incontro per cercare di arrivare a uno sconto che può essere molto significativo perché 20 milioni comunque sono tanti e il Milan aiuta sì ma certe cifre sono obiettivamente alte un po' per tutti lui è un po' scosso da questa situazione anche se in campo non si vede il Milan gli sta facendo vedere che gli è vicino che lo vuole aiutare e quindi anche lui ovviamente si sente si sentirà in dovere poi di di riconoscere al Milan questo sforzo e magari di andare anche incontro rispetto a tempistiche cifre eccetera eccetera ditemi che cosa ne pensate ragazzi però questa è un'iscrizione molto autorevole che arriva da Bola e ci saranno in descrizione contro in descrizioni una battaglia a scacchi vedremo che la vincerà speriamo al Milan speriamo che devi questo sconto così che poi tutto possa essere più facile iscrivetevi se lo avete ancora fatto lasciate un bel like e ditemi che cosa ne pensate sicuramente è stato mal consigliato sicuramente il Milan non deve pagare quella cifra però si contribuisce per una parte fa un buon gesto nei confronti del proprio giocatore facendolo sentire ancora più importante e facendolo sentire ulteriormente in dovere di restare qui al Milan a Ciminan la squadra numero uno in Italia un abbraccio e presto anche in Europa e presto anche nel mondo crediamoci ragazzi forza iscrivetevi grazie a tutti